Parliamo di una cosa molto molto strana, io l'ho trovata molto strana e non la sapevo fino a poco tempo fa. L'espressione è big hand, big hand or a big hand, una mano grande. Pochi anni fa, l'anno scorso, quando insegnavo a Taiwan, mi rendevo conto che una mia collega del posto di là, che però parlava inglese, usava spesso questo modo di dire, let's give them a big hand. E io non capivo all'inizio, cioè sì capivo forse il senso perché me lo immaginavo dalla situazione, ma non l'avevo mai sentito prima. A big hand vuol dire, si usa quando incoraggiamo qualcuno a fare un applauso. Ok, stiamo guardando una recita di fine anno dei nostri figli e a un certo punto il presentatore, il narratore dice, let's give them a big hand or let's give all the boys and girls a big hand e vuol dire facciamo un grande applauso. Let's welcome our special guest with a big hand. Il grande applauso può essere all'inizio di una performance o alla fine non c'è nessuna differenza. Let's give him, let's give her, let's give them a big hand. Let's give him, let's give him, let's give him. Grazie a tutti.